È stata a Roma da parte del Comandante Generale la presentazione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri edizione 2024. Noi l'abbiamo presentata qui a livello locale, calendario storico che è alla sua 91esima edizione e ha come tema i Carabinieri e la comunità. A sottolineare la vicinanza dei cittadini alla collettività con la presenza di oltre 4.600 stazioni su tutto il territorio nazionale anche nei comuni più isolati. La nostra presenza sul territorio anche soprattutto nei territori più isolati serve per lo svolgimento del controllo del territorio ma anche una funzione di rassicurazione sociale. Il nostro territorio in particolare è la provincia di Benevento, una provincia molto caratterizzata da comuni spesso isolati di piccole dimensioni dove la presenza dell'Arma dei Carabinieri attraverso la stazione rappresenta forse l'unico presidio unitamente agli enti comunali della presenza dello Stato sul posto. L'anno 2023 che volge a termine è un anno sicuramente positivo, da poco sono stati pubblicati i dati sul 2022, ovviamente la provincia di Benevento si conferma una provincia tra le più sicure in Italia, ovviamente su questo dato non ci dobbiamo adagiare ma deve essere sempre alta l'attenzione e la nostra attività è rivolta a questo sia in termini preventivi soprattutto ma anche in termini repressivi. Sarà sicuramente un anno, ancora non abbiamo i dati completi, in cui ci sarà una ripresa rispetto perché veniamo da lo stop che ha avuto anche la delinquenza negli anni della pandemia, ma contiamo di mantenere dei dati comunque molto validi che confermeranno appunto che il territorio della provincia di Benevento è un territorio abbastanza sano e tranquillo.